Chiostro della biblioteca di Arezzo, le protagoniste sono le donne del Saracino, una presenza che non era così scontata, lo è diventata e è stata ufficializzata in pratica all'inizio degli anni 60. Una mostra ricorda la loro presenza nella grande manifestazione folcloristica. Questa è una manifestazione fatta cavalleresca, quindi di eserciti che si scontrano e quindi fino a un certo punto nel palinzesto della giostra le donne non erano presenti. C'è stata appunto negli anni 60 questa grandissima novità che però fu rimangiata, nel senso che di fatto le donne fanno parte del palinzesto giostresco dalla metà degli anni 90 in maniera ufficiale e quindi c'è stato un entraesci costante. Queste sono delle fotografie estremamente importanti che abbiamo recuperato dall'archivio della provincia che fanno parte appunto di uno spaccato della nostra giostra estremamente importante. Fa molto piacere che proprio sia stata inaugurata, sia stata aperta oggi in occasione della giornata internazionale della donna e sono sicura che magari verrà anche visitata dalle signore che magari sono rappresentate in queste foto che ricordo risalgono tra gli anni 60 e 70. Queste fotografie sono magnifiche perché sono espressione di una grande spontaneità da parte di quelle signore oltre che di vestiti, di indumenti, di abiti splendidi perché decorati e risalenti a quel tempo.